In occasione del Santo Natale sono iniziati i giovedì scorso e festeggiamenti per i bambini del Terzo Circolo Didattico e Seneto, coordinato da dirigente Maria Nocera Cimino. In quel pomeriggio nella parrocchia dell'Immacolata i bambini hanno alietato tutti i presenti con i canti del coro Piccoli Angeli, dal loro formato e curato dai docenti Gloria Catania e Mimmo Pontillo, che gli hanno dato vita tre anni fa. Si tratta di una vera e propria didattica all'interno della scuola, che ha come obiettivo anche l'educazione alla salute, al comportamento, al linguaggio, nonché alla cultura e alla riscoperta delle tradizioni popolari. I bambini di una sezione del plesso ieri hanno inoltre dato vita ad una recita natalizia curata dalla maestra Schiembri, all'estendo un presepe vivente narrato da una voce fuoricampo che racconta lo spirito di sacrificio di molti bambini per rinunciare ai regali per costruire una capanna su un bambino. Grazie